Ammalarsi di polmonite al ritorno da una vacanza o dopo aver fatto delle cure dentali o addirittura dopo aver fatto una doccia nello spogliatorio della palestra o a casa nostra, questi sono fatti che purtroppo sono al novero della cronaca. In realtà possono accadere quando veniamo in contatto con alcuni batteri del genere legionella. La legionella è un batterio che vive in modo molto diffuso in natura ed è associato alla presenza di acqua e ha colonizzato anche impianti idrici artificiali e quindi lo possiamo trovare proprio nelle nostre case. La legionella può produrre la malattia del legionario o legionellosi che è una grave forma di polmonite piuttosto severa, infatti a una letalità del 30%, che si contrae mediante inalazione di aerosol contaminato, cioè aerosol in cui sono contenuti i batteri. L'aerosol può essere generato da rubinetti, docce, impianti termali, piscine, strumenti odontoiatrici e anche addirittura dispositivi per le terapie termali. Le misure che possono contribuire alla riduzione del numero della legionella sono quindi il mantenere la temperatura dell'acqua calda a valori al di sopra dei 55 gradi centigradi al rubinetto e le temperature dell'acqua fredda a temperature inferiori ai 20 gradi centigradi, decalcificare i rompigetto dei rubinetti e i soffioni delle docce, flussare, cioè aprire rubinetti e far scorrere dell'acqua, soprattutto lì dove c'è stato un poco ridotto utilizzo nel tempo. Per esempio, ricordo sempre, gli appartamenti stagionali all'apertura della stagione. L'analisi si effettua filtrando un litro d'acqua sanitaria, comunque di acqua, mantenendo il filtro per alcune ore a 37 gradi centigradi, quindi risospendere e inoculare il campione su un terreno adatto alla crescita del batterio. Questa piastra di terreno viene mantenuta a 37 gradi centigradi per 10 giorni. A quel punto, se c'è una crescita positiva, si va a valutare il sierotipo della legionella, perché ci sono alcune che sono più pericolose per la salute umana, mediante dei sieri agglutinanti. Per quanto riguarda il rischio regionellosi, il CATAS affianca e aiuta le aziende, che possono essere hotel, case di cura, ma anche privati, nell'analisi della presenza del germe nei propri impianti. Inoltre, aiuta a sviluppare misure preventive e di controllo e poi a valutarne l'efficacia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!